Un caro saluto da Maria Giulia, ci parliamo dell'imminente ondata di caldo in arrivo. Qui è la media della pressione alla quota di 5.500 metri prevista nei prossimi 10 giorni. L'anticiclone nordafricano che è padrone assoluto della penisola, come vedete abbraccerà soprattutto il centro-sud ma si spingerà anche fino alle regioni di nord-est, un po' più riparate quelle di nord-ovest. Quindi la regione più infocata saranno soprattutto le regioni centro-meridionali. Bene, su freccia blu invece vedete le correnti atlantiche, le fresche correnti atlantiche, le quali cercano di insediare l'anticiclone. Ce la faranno appena per due giorni, tra il 12 e il 13 di giugno, ma poi saranno costrette ancora a vedere l'anticiclone. Ma dopo il 15 probabilmente l'anticiclone dovrà soccombere alle perturbazioni atlantiche. Qui è la situazione prevista per venerdì. Sulla sinistra le temperature alla quota di 1.500 metri, guardate un po' in marrone, le temperature sono superiori a 20 gradi, quindi si sta avvicinando l'ondata di calore su gran parte dell'Italia. In verde invece le temperature sotto 0 gradi alla quota di 1.500 metri. Insomma, in marrone vedete l'ondata di caldo, l'ondata di calura africana che si sta per avvicinare all'Italia. Sulla destra vedete le temperature massime previste al suolo, potete vedere nelle linee rosse le aree dove le temperature massime saranno superiori a 30 gradi, venerdì superiore a 30 gradi, soprattutto sulla Puglia e sulla Catanese. Questa è la situazione di sabato. La lingua d'aria calda nordafricana abbraccia soprattutto il centro-sud. Infatti vediamo temperature sopra 30 gradi, le linee rosse su gran parte del centro-sud, qualcosa anche sulla bassa Lombardia e sull'Emilia. Qui la situazione domenica, ancora superiore a 30 gradi la temperatura su gran parte dell'Italia perché la lingua d'aria calda nordafricana ancora interessa soprattutto il centro-sud. Al nord temperature un po' più defilate, per lo più sotto 30 gradi. Questa è la situazione appunto di domenica. Andiamo a vedere la situazione dei lunedì 10. La lingua d'aria calda si spinge anche al nord in maniera decisa. Tutta l'Italia sotto una cappa di calore. Vedete le linee rosse che delimitano le aree con temperature sopra 30 gradi, ma qua e là anche 35-36 su gran parte della penisola. E infine, non proprio infine perché ancora vorremmo parlare del tempo, fino al 15, qui martedì 11 la lingua d'aria calda nordafricana ha insidiata una perturbazione. Vedete l'aria verde in arrivo sull'Italia, ma ancora resistono temperature sopra 30 gradi sulla Toscana, la regione di nord-est e gran parte del centro-sud. Arriviamo a mercoledì 12. Ecco l'aria più fresca che finalmente raggiunge il nord Italia, dove le temperature scendono ovunque sotto 30 gradi, ma resistono fino a 30 gradi sulle regioni di Reniche e sulle regioni meridionali e sulle isole maggiore. Ma adesso arriviamo a giovedì 13, la lingua d'aria più fresca come vedete ha cacciato l'area marrone, ossia le temperature sopra 20 gradi in prossimità del nord Africa, non più solo l'Italia. Le temperature scendono quasi ovunque sotto i 30 gradi tranne la Puglia e le isole maggiore. E infine qui arriviamo a venerdì 14, una seconda ondata di aria calda africana, vedete sulla sinistra questa area marrone si allunga verso l'Italia, inizia una seconda ondata da parte dell'anticicolo nord-africano sull'Italia, temperature massime oltre 30 gradi su gran parte del centro-nord. Qui l'ondata di caldo si sposta verso centro-sud ma ancora interessa anche la regione di nord-est nella giornata di sabato 15, vedete le aree in rosso, le aree ove le temperature saranno oltre 30 gradi. Bene, termino qui, un caro saluto ancora da Mario Gioliatti.